Qui c'è l'almatura blu L'almatura blu Oh Svuccio a blu L'almatura blu Lancio una granata a frammentazione Sto ricaricando Non scappi coglione Sì Siamo di qua Siamo di qua Sì Sì Ricarico Attenzione Il leader uccisioni è stato evitato Ehi compadres Abbiamo fatto fuori il leader uccisioni Quello è fuori comandimento C'è nuovo leader uccisioni Teniamo d'occhio il nuovo leader uccisioni Teniamo d'occhio il nuovo leader uccisioni No Qui ci sono dei materiali Qui c'è andrà Quello che ha scappato giù Qui c'è andrà Quello che ha scappato giù Oh Eccolo Ma questo va al mare Ma che vuole lupo Aiuto aiuto Ma che vuole lupo Questa E anche l'ultimo è stato eliminato Bel lavoro squadra E' così che si fa Sto ricaricando gli scudi Questa gli manca due Qui c'è uno scudo evo Livello 2 Proprio quello che abbiamo Lì c'è una capsula assistenza Qui c'è uno scudo evo Livello 2 Carico gli scudi Eserciando Sto riparando Sto riparando c'è la batteria c'è uno scudo evo qui wow livello 2 c'è una batteria a scudo si è pronto a volare su una zipline io ostile individuato 5 entretati guarda guarda questa era un fortissimo secondo me Una figlia però un fortissimo Questa? Ma non ce l'ho manchi io eh, non ce l'ho Un po'? Dio mi testa Qui? Cattato Contatto Imparatevi dietro il mio scuoto La nella, la nella, la nella Ok, 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 è rotto, rotto Un contatto con il nemico Spara, tara, tara, buona Nemico fuori gioco Sto usando il rampino Ho distrutto lo scuso a quel nemico Stella Arc Come va? Qui c'è? Come va? Ehm C'è il mio scuoto Sì? C'è il mio scuoto C'è il mio scuoto C'è il mio scuoto fuoriata, fuoriata un tiro di rampia, un pesante fuoriata fuoriata 2 all'ultima lì scaccato lo voluto ah si ma no ed è voluta oh un attimo no effettivamente un attimo non c'ho più un cazzo cioè va bene la torre un attimo non c'ho munizioni non c'ho un cazzo oh ecco è un trasmettitore di rielo portatile qui inizia e consaglio andiamo qui amico e ha solo uno scudo termico e viva niente più dolore sto riferando i miei danni metti la, metti la torre lì metti la torre lì metti la torre lì si si vai lancia una torre di evacuazione mi sto curando l'anello si chiude tra guardiamoci da questa parte 45 secondi alla chiusura e l'anello è vicino lì c'è una capsula assistenza mi sto guarento mi sto riparando non c'ho più batterie eh scusa che medici tu ce l'ha? eh dammelo qua che pancia d'arte caberanza rifornimenti extra per noi squadra il fans camped up eccoli 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 vengono qua vengono qua ti fa vedere eh no ma non avanti no ma non avanti controlliamo quella zona no se chiappi bene io che ho da qui ho stabilito un contatto con il nemico sto creando una zip line qualcuno che non è fuori per te intervi dolcetti mi stanno sparando avrò il vuoco attenzione lì c'è un nemico carico gli scoti come fate tritare ho fatto batteria Ricarica Non so io È qui è qui è qui Ricarica scudi in corso Tocca push a questo dai C'è qualcuno laggiù Abbiamo un problema Ricarico Sopra sopra 10 secondi alla chiusura Contatto Fuori Fuori Sto ricaricando La meta si scuove Altro moto per più cazzo Fuori Ho ucciso un nemico E così che si fa Sto ricaricando Fai aspetta Da una rinforzata dal mio scudo Qui c'è uno scudo ausiliario Nivello 4 Oh Arriva 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 Qui 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 da me 150 50 Ricarica scudi In corso Di auto avvistato laggiù Carico gli scudi Qui 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 Rottor Rottor A terra brucia ma adesso sto fuori qui 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 terra occhio occhio lascialo fuori lascialo fuori no fio no fio c'ho la cosa deve scappar questo è un tritaglio questo troverone questo forte è il nostro comunque siete i campioni Apex onesto no fio no fio no fio Grazie a tutti.